L'iniziativa chiede che le imprese svizzere siano più responsabili nell'ambito delle loro attività all'estero. Le imprese svizzere devono pertanto rispondere dei danni ambientali e delle violazioni dei diritti umani imputabili alle imprese estere da esse controllate. Anche il Parlamento e il Consiglio federale intendono rendere le imprese svizzere più responsabili in materia di tutela dell'ambiente e dei diritti umani, ma agendo in modo coordinato a livello internazionale e non in solitario. Di cosa si tratta? L'iniziativa chiede che le imprese verifichino i loro affari secondo il rispetto dei diritti umani e delle norme ambientali. Per farlo devono in particolare controllare anche la loro catena di fornitura. Contro i rischi devono prendere misure e renderne conto presentando un rapporto. Se una filiale o un fornitore economicamente dipendente causa un danno, è previsto che sia l'impresa svizzera a risponderne. Le vittime hanno la possibilità di intentare un'azione di risarcimento dei danni in Svizzera. Il Parlamento ha adottato un controprogetto indiretto all'iniziativa. Esso sancisce obblighi legali per le imprese. Devono rendere conto dei rischi per l'uomo e per l'ambiente, nonché dei rischi di corruzione legati alle loro attività all'estero. Devono inoltre ottemperare agli obblighi di dovuta diligenza, ad esempio per quanto concerne il lavoro minorile. Questi strumenti sono coordinati a livello internazionale. Il controprogetto rinuncia a ulteriori norme di responsabilità per le imprese svizzere. Ogni impresa continua a essere responsabile delle proprie azioni in loco. Il controprogetto entra in vigore, sempre che non sia contestato con successo mediante referendum, se l'iniziativa è bocciata. Per il comitato di iniziativa è chiaro. Le grandi multinazionali con sede in Svizzera devono rispettare i diritti umani e le norme ambientali internazionali. Chi esercita un'attività commerciale a livello mondiale deve anche assumersene la responsabilità. Le multinazionali che sfruttano il lavoro minorile o avvelenano fiumi devono rispondere delle loro azioni. Chi gestisce i propri affari in modo eticamente corretto non ha nulla da temere. Il controprogetto è un semplice alibi. Le piccole e medie imprese praticamente non sono toccate dall'iniziativa. Per la stragrande maggioranza delle imprese svizzere il rispetto dei diritti umani è un'ovvietà. E infatti numerosi imprenditori sostengono l'iniziativa. Consiglio federale e Parlamento considerano l'iniziativa eccessiva e ritengono che indebolisca la piazza economica svizzera. Nessun altro Stato ha norme di responsabilità così severe. Con l'iniziativa le imprese svizzere dovrebbero rispondere di errori altrui. L'iniziativa intende colpire le pecore nere ma impone anche nuovi obblighi a tutte le altre imprese svizzere che si comportano in modo corretto. Se ciò inducesse queste ultime a ritirarsi dai paesi in sviluppo le conseguenze sarebbero controproducenti anche per questi paesi. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono rafforzare la tutela dei diritti umani e dell'ambiente ma unicamente mediante un approccio coordinato a livello internazionale. Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.